SafeGate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visita il nostro sito, safegatepro.com Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nello corso di questo lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, avremo un importante peggioramento del tempo al nord sul Medio Alto Tirreno a causa di una nuova perturbazione atlantica che finalmente, potremmo dire, interromperà il lungo periodo di siccità che avvolge gran parte della nostra penisola. Ritorneranno le piogge e anche le levicate a tratte a bassissima quota sul nord-ovest. In giornate il maltempo pian piano si muoverà verso il centro Italia. In Abruzzo inizio di settimana comunque abbastanza gradevole, con cieli sereni o poco nuvolosi, ma tra pomeriggio e sera le nuvi tenderanno rapidamente ad aumentare nelle aree interne, in Appennino, nell'Aquilano in particolare, ci aspettiamo anche qualche debole pioggia. Però nulla di particolarmente rilevante, più stabile sulle coste, con cieli sereni o poco nuvolosi o al più velati. Il vero peggioramento potrebbe arrivare nel corso di martedì con piogge e anche qualche forte temporale, ovviamente nevicate in montagna. Dal punto di vista termico aumentano le temperature, soprattutto nelle massime, valori fino a 13-14 gradi. Grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona giornata.